Il 4 agosto torna l'appuntamento con Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura con accesso su prenotazione dove previsto. Porte aperte gratuitamente quindi anche in tutti i musei e luoghi della cultura statale di Napoli, tra i quali Castel Santelmo e Museo del Novecento, Certosa e Museo di San Martino, Museo archeologico nazionale di Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortese e Museo delle carrozze Palazzo Reale di Napoli. Ingresso gratuito anche nelle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Campi Flegrei.